I risultati delle elezioni amministrative in provincia di Belluno delineano un panorama caratterizzato da diverse riconferme e alcuni volti nuovi. Iniziamo dalle prime, a Calalzo di Cadore Luca De Carlo vince con il 76% di preferenze, mentre con quasi l'80% Gianluca Dal Borgo resta alla guida di Chies dal Pago. Percentuale simile per Luca Strapazzon, già sindaco di Arsie che riconferma il suo ruolo per il prossimo quinquennio e per Moreno De Val primo cittadino a Santo Maso a Gordino. Preferenze attorno al 60% invece per Andrea De Bernardin che resta sindaco di Roccapietore. A Vallada a Gordina Fabio Lucchetta vince con il 53% e a Taibon Silvia Tormen supera l'avversario con il 61% assicurandosi la carica. Il confronto a tre di Seren del Grappa vede Dario Scopelli in testa con il 76% di preferenze, stesso dato a Querovas dove Bruno Zanolla resta sindaco grazie proprio al 76% dei votanti, mentre a Livina Longo si configura un nuovo mandato per Leandro Grones. Per quanto riguarda i volti nuovi, a Cibiana vince Mattia Gosetti con un solo voto di distacco dall'avversario. Le percentuali parlano di 50,2 contro 49,8. Scarto molto maggiore invece a Lorenzago di Cadore con l'88% di preferenze che consegna la vittoria a Marco D'Ambros. Elisabetta Casanova Borca viene spodestata a San Pietro di Cadore dal vincitore Manuel Casanova Consier con una percentuale di poco superiore al 54%. A ospitale il nuovo sindaco è Roberto Santin, mentre con il 55% il trevigiano Oscar Meneghetti guadagna la fascia tricolore a Santo Stefano di Cadore.